Benvenuti al nostro consueto appuntamento domenicale con il commento del Vangelo. Oggi è 20 agosto e anche la ventesima domenica del tempo ordinario. Marineo, mio paese natio, dove io mi trovo a riposarmi in questo momento, festeggia San Ciro. Ieri sera c'è stata la meravigliosa dimostranza lungo le piazze principali e le vie del paese con una grande partecipazione di popolo. Il popolo marinese sente questo momento come momento importante perché, come diceva padre Laspina, che è stato parroco per tutta la sua vita qui a Marineo, la dimostranza della vita di San Ciro è un monumento scolpito nell'animo dei marinesi. Ed è proprio così. Per questo, al termine di questo brano del Vangelo che io adesso leggerò e brevemente commenterò, al termine mi soffermerò un pochino su questa, la festa di San Ciro, su San Ciro e la dimostranza. Ma andiamo subito a leggere il brano del Vangelo di oggi. Siamo sempre nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 15, nei versetti 21-28. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, l'attuale Libano. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si inizia a gridare «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!» Questo grido è un grido di preghiera. E questa è l'importanza della preghiera, del chiedere anche, che esprime che cosa? La fede, lo vedremo. «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!» Sottolinea Matteo, figlio di Davide. Nella genealogia lui proprio mette anche questa importanza di riferire Gesù a Davide. «Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Purtroppo il demonio esiste, il demonio porta sempre tanta sofferenza, perché il male fa soffrire. Ma egli non le rivolse neppure una parola strano, che Gesù proprio la guarda con distacco, quasi non la sente. Certe volte, pure noi quando preghiamo, è come se non ci sentissimo ascoltati dal Signore. «Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono». Ecco, è l'intercessione dei Santi, l'intercessione degli amici di Gesù, che si avvicinarono e lo implorarono. Ecco la mediazione. «Esaudiscila perché ci viene dietro gridando». Avevano un interesse particolare a far sì che Gesù esaudisse la preghiera di questa donna, perché col suo grido, con la sua insistenza, le disturbava. Egli rispose «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ecco, innanzitutto Gesù, nella sua missione, si rivolge al popolo di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui. Ecco, si prostrò l'atteggiamento di umiltà profonda, l'umiltà della fede si esprime anche attraverso dei gesti. Il mettersi in ginocchio, il prostrarsi, esprime la propria fede nell'autorità, nel riconoscere l'autorità del Signore, dell'autorità di Dio, dicendo «Signore aiutami, Signore aiutami». Questa è una preghiera che dà sottolineare. «Signore aiutami». Ed Egli rispose «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ecco il dialogo che si apre tra Gesù e la Cananea. «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Una bella risposta. Allora Gesù le replicò «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ecco, è importante che Gesù riconosce la grande fede di questa donna. Gesù vuole riconoscere la fede in noi quando preghiamo. E allora a conclusione di questa pagina del Vangelo di questa domenica andiamo un po' a riflettere sulla festa che è importante per i marinesi, la festa di San Ciro. Ecco, due cose io volevo dire. Una prima cosa, un piccolo commento alla dimostranza che c'è stata ieri sul tema dello sconto tra il bene e il male. Mi è piaciuta moltissimo e soprattutto perché anche porta ai giovani un bel messaggio. In qualche modo tutto il paese è stato coinvolto. Sono stati credo un 250 gli attori, diciamo, popolari di questa dimostranza della vita di San Ciro. E poi 21 scene molto belle in diverse piazze, nella piazza poi del castello c'è stata la trasmissione su YouTube che si può, credo, anche ancora rivedere. E perché è importante? È importante perché Marineo sente la grandezza di San Ciro. Un santo, innanzitutto, è un grande uomo. San Ciro è stato veramente nel suo tempo, siamo nel IV secolo, a cavallo tra il III e il IV secolo, dal 250 al 303 o 311, che sia durante la persecuzione di Diocleziano. Ma San Ciro è stato un grande uomo perché è stato un grande medico, un grande medico vicino alla gente che sapeva curare con amore. Con un amore, diciamo, grande. Cioè, curava anche senza chiedere i soldi, soprattutto ai poveri. E in questo io l'ho avvicinato a un altro grande santo del nostro tempo, San Giuseppe Moscato di Napoli. E credo che, di aver capito e di aver sentito, che a Napoli c'è una grande devozione a San Ciro e credo che lo stesso San Giuseppe Moscati, morto giovanissimo, 46 anni, era devotissimo, devoto di San Ciro. Medico anche lui. Quindi credo che si sarà ispirato anche all'esempio di San Ciro che curava senza soldi. San Ciro medico, eremita e martire. Medico a nargero, senza argento, senza chiedere soldi. E San Giuseppe Moscato metteva, diciamo, nella stanza accanto al suo ambulatorio, un cappello dove sotto c'era una scritta, ecco, chi può metta, chi non può prenda. Ecco, chi può metta, chi non può prenda. Questo significa essere grandi uomini. Essere santi significa essere grandi uomini. E San Ciro è stato un grande uomo, io aggiungo, di Dio. Perché un innamorato del Vangelo di Gesù, un innamorato del Signore, non per nulla, quando, diciamo, comprende che sta per essere arrestato ingiustamente perché era invidiato e odiato da tutti i medici di Alessandria ed Egitto perché erano invidiosi. Perché non tutti i medici sono così portati ad amare, a fare il loro mestiere per amore, ma con molti lo fanno per i soldi, lo facevano anche allora, lo fanno a volte anche oggi. Non tutti, come San Ciro, lo prendevano lì ad Alessandria ed Egitto come una missione, l'essere medico, l'aiutare gli ammalati a guarire, soprattutto i più poveri. Ecco, San Ciro faceva così, ma anche San Giuseppe Moscati faceva così. Vi invito anche a vedere questo film che hanno fatto su di lui, intitolato Giuseppe Moscati, L'amore che guarisce, L'amore che guarisce. E direi, a conclusione di questo mio piccolo intervento su San Ciro, nell'accostamento di questi due santi di ieri e di oggi, far vedere l'attualità, sempre perenne, della Pentecoste, cioè dello Spirito Santo, perché i santi sono capolavori dello Spirito Santo. Lo è stato San Ciro, nel quarto secchio, avevo ricevuto anche il dono delle guarigioni e dei miracoli, e lo è stato San Giuseppe Moscati, un capolavoro dello Spirito Santo. Quindi mi piace che in questa festa di San Ciro anche ci sia la possibilità di accostare un santo di ieri e un santo di oggi nel contesto della fede, come il brano del Vangelo di oggi ci ha indicato. Un invito ad avere una fede grande. L'unica stonatura, mi permettetemi di dirlo, Nino Triolo è stato un regista meraviglioso, ha fatto tutto bene, ma una piccola stonatura, che non è poi piccola, ma grande dal punto di vista teologico, è che il battesimo senza acqua non si fa. Non è valido un battesimo senza acqua. San Ciro quindi, nella dimostranza di ieri sera, non era cristiano, non è stato battezzato bene, che si battezza sempre con l'acqua. Vabbè, ma questa è una stonatura che va corretta sicuramente, ma non toglie niente alla grandezza e alla bellezza di quello che Nino Triolo ha fatto anche con tutti gli attori ieri nella dimostranza. grazie per avermi ascoltato e grazie per quella gioia che ci avete dato nella dimostranza di ieri sera. Buona domenica a tutti e buona festa di San Ciro e i marinesi in particolare.